Io sono responsabile commerciale di Ligra, Ligra un distributore di prodotti a valore aggiunto concentrato sul mercato del video professionale, nella branch principale, altre divisioni sull'education e su altre linee di prodotti differenziate. Sulla parte video professionale siamo qui per presentare il mondo dei sistemi integrato, architetti e ordini di diverso tipo, insieme a connessioni, la nostra proposta e soprattutto stimolare tramite case history, case stavi, esempi di installazione realizzabili, stimolare la richiesta da parte di questa nuova clientela, in alcuni casi per noi, di progetti, di collaborazione e di sviluppo di questa linea di prodotti. Una serie di showcase che noi possiamo presentare ai partecipanti possono generare una richiesta o comunque possono portare loro a proporre ai propri clienti soluzioni alle quali semplicemente non avevano pensato perché tecnologie nuove o tecnologie standard ma applicate in modi innovativi, multimediali, interattivi e quindi generare la richiesta da parte dei loro clienti di nuovi progetti, di nuovo supporto tecnico o di semplicemente di nuove demo di prodotti che possono inserire nelle proprie realtà. Un'altra possibile applicazione, questa è la Tarna Chiesa che è stata fatta diventare un museo per una location, quello che sta andando molto in queste situazioni oggi sono i led wall, i led wall sono la normale sviluppo dei led wall, ovviamente oggi molto più costosi ma anche con molto più impatto sull'ambiente a livello di dimensioni, a livello di friendless, quindi non c'è nessuna interruzione sulle cornici, a livello di interattività e soprattutto a livello di luminosità. Se la rinagliere vi vuole un mare, non so se è professionale, messo in una letrina di giorno non si vedeva, con questa nuova tecnologia il vostro cliente, che in questo caso può essere un museo di vostra siccosa, vede pienamente, in pieno giorno, l'immagine che quindi attiva l'attenzione del cliente.